Conferenza stampa dedicata al nuovo piano urbanistico comunale di Battipaglia questa mattina presso la Casa Comunale. A partecipare la sindaca francese e l'architetto Oliviero, redattore con mate del PUC di Battipaglia. Un'occasione per illustrare i prossimi passaggi e tratteggiare le linee guida del piano. Ci siamo presi come obiettivo dopo 50 anni di portare avanti il PUC a Battipaglia. Abbiamo subito adottato le linee guida e successivamente il preliminare e a fine maggio arriva dalla damate, dall'architetto Oliviero che ne è il redattore anche, questa proposta di PUC. Qualcuno ha detto che l'abbiamo messa nei cassetti. Assolutamente il problema che ci siamo posti sia come amministrazione confrontandoci con gli uffici e con la struttura era se approvare direttamente in giunta. Il Covid ci ha un po' bloccato perché non abbiamo avuto il tempo di coinvolgere le associazioni, la cittadinanza, le diverse categorie e quindi ci è pensato, anche perché il clima della campagna elettorale è quello che per evitare facili strumenti, insomma che uno strumentalizzi il tutto e le falsi informazioni, abbiamo deciso che la cosa più etica da fare è innanzitutto di dire alla città e oggi abbiamo il redattore qui che lo spiegherà, che il PUC è fatto e terminato. Abbiamo seguito le linee guida del preliminare, cioè praticamente un GULC snello anche fattibile per cui riqualificazione dell'esistenza, noi abbiamo interi quartieri da riqualificare, quindi abbattere le riqualificazioni dando standard maggiori alla città perché noi abbiamo delle aree che si è benissimo prive di verdi, di parcheggio eccetera e soprattutto consumo del suolo zero, consumo e solo agricolo perché noi dobbiamo puntare molto sulla nostra agricoltura che poi è quella che retto anche la crisi economica e la cosa importante è la riqualificazione della fascia costiera che non è un parolone perché manco a farlo a posto, noi abbiamo affidato a MATE che è una struttura bolognese l'area d'azione del nostro PUC e devo dire che MATE poi è quella che successivamente è stata scelta dalla regione Campania per fare il masterplan, quindi è una struttura che ha fatto la nostra riqualificazione che praticamente ripercorre quella che è l'idea del masterplan che abbiamo portato avanti dall'inizio, anzi come comuna capofila della fascia della piana del Siele, quindi la fascia costiera e ci promettiamo quindi abbiamo deciso di evitare che possa essere strumentalizzato ma di approvarlo direttamente quando torneremo a fare il secondo mandato il PUC ce l'abbiamo sta lì e quindi il passo successivo che faremo, quindi nessuna azione arbitraria perché se volevamo fare qualcosa di nascosto questo era il momento opportuno prendo il PUC se c'è degli interessi da proteggere, d'altronde gli interessi economici vediamo dove stanno, se ci sono degli interessi da proteggere è chiaro che l'avrei approvato, la maggioranza la tengo e la approvo e non è così, invece è una è una forma di rispetto verso la cittadinanza tutta e verso le varie categorie che ci apprestiamo ad ascoltare non appena si riaprirà il 16 ottobre saremo rieletti alla guida di questa città.